Un caloroso buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Oggi in casa Viola, presentazione ufficiale del nuovo ed ultimo acquisto della sessione di mercato appena conclusa è di Milson Fernandes. Il centrocampista arrivato dal West Ham che ha scelto la maglia numero 26 ha proprio parlato dell'importanza della sua esperienza in Inghilterra e della voglia di trasmetterla nonostante la giovane età a tutta la squadra. Quando? Anche già domenica contro il Chievo Verona. Dice di lavorare con questo obiettivo anche se naturalmente l'ultima decisione spetta Stefano Pioli, visto che gli altri compagni di reparto sono più avanti nella preparazione. Sul ruolo dice di essere versatile anche se la mediana è il suo forte e iniesta il suo idolo fin da bambino. Obiettivi? Europa, ma lavorare ogni giorno per esserci. Infine la Fiorentina ricorda che l'amichevole di domani ad Arezzo vivrà di un ricordo speciale in onore di Bruno Beatrice, ex viola ed ex retino. Per Fiorentina1.com, Pasquale De Stefano.